Ciao ragazzi, sono Eppi e bentornati su Mega Wow! Come state? Come state? Prima di iniziare vi chiedo di lasciare un like se anche a voi vi piace Frozen! Oggi con me qui c'è... Cinzia! Ciao a tutti! Ciao Eppi! Benvenuti in questo video! Anche se non so che cosa devo fare oggi, perché Eppi non mi ha detto nulla! Eppi, cosa devo fare oggi? Perché non mi ha detto nulla? Cosa guardiamo? Cosa vediamo? Cosa... Hanno suonato alla porta! Scusate ma devo andare a vedere, anzi volete venire con me? Andiamo a vedere chi è! E nel frattempo mettete un pollicione in su per questo video! C'è un pacco! Prendiamo il pacco! Guardate che pacco carino! Ma chi è? Che cos'è? Perché? Dobbiamo aprirlo! Eppi! È la mia sorpresa di oggi per caso! Apriamolo! Apriamo questa bellissima scatola! Uuuuh! Ci sono due cose qui dentro! C'è una piccola Elsa carinissima! E un unicorno! Questo unicorno mi sa molto di firma! Vabbè! Magari significa proprio che è da parte di Eppi! Però! Cosa significa questa Elsa? Ma poi! Non c'è più niente! Secondo me vorresti controllare in mezzo la scatola! Cosa dici? Ho parlato ragazzi! Sì! Certo! Controlla bene quella scatola! Vedi cos'altro c'è dentro! Seguiamo i consigli di Elsa! Vediamo che cosa succede! Vediamo cosa c'è! Io non vedo nulla! Cosa c'è? Puoi controllare tu per favore? Facciamo controllare lei! Mmm! Cosa sta tirando fuori? Che cos'è? Uh! Grazie Elsa! Non c'è di che! È una Mascense Frozen! Possiamo trovare dentro questi bellissimi pupazzetti! Che bella! Può esserci Elsa! Può esserci Anna! Può esserci Olaf! Può esserci Sven! E anche il mostro è un personaggio segreto! Mmm! Dobbiamo aprirla! Vediamo chi si nasconde qui dentro! Che bella! È una mystery box quindi! Con delle mystery palline! Voilà! Apriamola! Uh! Oh! Ah! Sììì! Io lo adoro! Io lo adoro! Io lo adoro! È Olaf! Guardate! È proprio carinissimo! Guardate! È super squishoso! Guardate! Sì! È proprio Olaf squishy! Nye 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 nye! Bellissimo! Elsa adesso hai il tuo amico Olaf! potete stare insieme l'hai creato tu Olaf ciao Olaf ciao Elsa bene c'è altro qui dentro? cerca cerca chi cerca trova è vero un'altra pallina vediamo cosa c'è qui dentro questa non si è aperta molto bene ok è un altro Olaf bene molto bene ma sono i piccoli Olaf guardate sono proprio piccolini penerelli ok ne ho due vediamo se c'è qualcos'altro si mi sa che ce n'è un'altra qui aiuto ecco l'è un'altra apriamo anche questa tuttudum tuttudum e questa volta chi ci sarà qui dentro compriamolo subito 3, 2, 1 non c'è due senza tre abbiamo tre Olaf tre gemellini tre bei gemellini di Olaf che carini mi sanno molto dei figli di Olaf quando Elsa staruntisce che è raffreddata spuntano tanti piccoli Olaf tante piccole palline di neve animate hai l'influenza Elsa ecco appunto quello che succede mi sa che prende tutto non scherzare eccoli qua 3 piccoli Olaf nelle piccole palline e ragazzi sono bellissimi sono super squisciosi guardate sono proprio carini troppo carini che dici? ringraziamo Happy per questa mystery box con le mystery palline dentro grazie mille Happy è stato molto divertente aprire queste palline con i miei amici Olaf dentro si in effetti sono davvero troppo carini e direi che sono tutti da collezionare anche se me ne capitano tre sono molto carini io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto mi sta accadendo tutto Elsa vi saluta ciao amici alla prossima sei simpatica ciao Happy grazie per questa mystery box ciao ragazzi noi ci vediamo domani spero che il video vi sia piaciuto ciao